Essere operatore economico autorizzato, quali vantaggi conferisce un'azienda? Essere operatore economico autorizzato dona, a mio modo di vedere, numerosi vantaggi alle aziende. È una certificazione rilasciata dall'autorità comunitaria dei 28 stati membri, in Italia viene rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e offre alle aziende multinazionali e anche alle piccole e medie imprese un'opportunità di semplificazione, di razionalizzazione, minori controlli sull'importazione e sull'esportazione di merci in Dogana e quindi chiaramente un'ottimizzazione di tutta quella che è la catena logistica e sicuramente un effetto reputazionale positivo sul brand anche nei confronti di operatori diversi e operatori di stati membri comunitari e non comunitari. Quindi tutto si traduce in un'accelerazione dell'ingresso sul mercato, il time to market soprattutto. Per ottenere questa certificazione cosa si deve fare e quanto tempo occorre? Esattamente, è una semplificazione, aumenta il time to market, è un vantaggio di competitività. Per ottenere l'autorizzazione si deve richiedere appositamente all'autorità doganale di certificarsi, presentare un'istanza, subire un audit doganale e l'autorizzazione viene rilasciata nell'arco di normalmente 120-180 giorni ma nel caso dell'Agenzia delle Dogane italiana c'è un impegno formale al rilascio entro i 90 giorni. Quindi è assolutamente una certificazione molto veloce e molto efficiente anche dal punto di vista dell'autorità nazionale italiana. Un'ultima domanda. L'importanza è che tutti gli attori della catena, della SAPI Chain, siano certificati. Cosa accade se invece anche solo uno non lo è? La certificazione AEO chiaramente comporta vantaggi ad ogni singolo operatore che si certifica. è chiaro però che più operatori si certificano, più vengono ridotti i controlli in linea di dogana. C'è una riduzione fino al 90% dei controlli e più sono gli operatori più aumenta questo vantaggio. Quindi chiaramente è una certificazione che agisce per contaminazione, che il produttore, i fornitori, lo spedizioniere, il destinatario, il cliente hanno tutti interesse a certificarsi proprio per godere al massimo dei benefici dell'AEO. Questo non è valido solamente nell'Unione Europea ma è valido anche nei paesi terzi, in quei paesi che operano in mutuo riconoscimento e che quindi hanno certificazioni simili all'AEO che vedono riconosciuti gli stessi benefici. Quindi chiaramente l'obiettivo è la massimizzazione dei benefici. I tempi per ottenere la certificazione in Italia? In Italia normalmente nei 90 giorni si riesce a ottenere la certificazione doganale. Funziona molto bene, devo dire che gli uffici sono molto collaborativi, c'è un'agenzia dogane centrale che opera veramente bene con referenti di altissimo livello.